Dal 25 al 27 settembre torna al villaggio Leumann di Collegno la manifestazione Filo lungo filo, un nodo si farà, una mostra a mercato che propone un incontro fra artigiani, produttori, operatori del settore e semplici appassionati della tessitura. Lo storico villaggio fondato tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento dall'industriale tessile e filantropo svizzero Napoleone Leumann è diventato da alcuni anni un ecomuseo che custodisce le memorie materiali e spirituali dell'industria tessile collegnese. Qui da 21 anni l'associazione amici della scuola Leumann organizza un evento che richiama tessitori da tutto il mondo. Quest'anno ad esempio sono attese una tessitrice boliviana e una peruviana per presentare i tessuti della tradizione andina. Filo lungo filo, un nodo si farà, diffonde fra gli adulti ma anche tra i bambini la conoscenza sulle materie prime, lana, cana, palino, sulle tecniche di tessitura, sull'evoluzione tecnologica della produzione dei tessuti, dei semilavorati, dell'abbigliamento e dei complementi d'abbigliamento e di arredo. Questo era molto più che una fabbrica, era una comunità? Sì sicuramente perché il villaggio Leumann è stato costruito intorno ad un'azienda tessile e quindi era dedicato, è stato dedicato ai dipendenti inizialmente ma ancora oggi alcuni dipendenti abitano al villaggio e c'è comunque una comunità viva, vivace. Questo villaggio è possibile visitarlo in modo autonomo la prima domenica di ogni mese alle ore 15 presentandosi presso la casa museo che si trova a lato della chiesa e ci sono i ciceroni della comune di Collegno che accompagnano in questa visita, in questo viaggio nell'Ottocento che è il periodo in cui è stato costruito. Nel 1900 Leumann è premiato a Parigi miglior produttore di tessuti in Europa, riconoscimento che si ripete a St. Louis negli Stati Uniti nel 1904. Il tessuto Leumann ha conquistato il mercato mondiale. Io ci metto un po' del mio e dico noi abbiamo reso belle, eleganti, vanitose le nostre donne. Un tempo quando vestivano tutte di grigio e di nero, soprattutto le ragazze sembravano le nonne di loro stesse. Con i nostri colori abbiamo dato gioia di vivere. Ottimo il lavoro che è stato svolto fino ad oggi da amministratore. Quello che mi sento di dire è che l'unico nostro ruolo deve essere davvero quello di aiutare in tutti i modi a continuare l'attività svolta fino ad oggi da chi ha fatto nascere, realizzato i musei, da chi porta avanti i corsi di tessitura mantenendo anche viva questa tradizione ancora presente sul nostro territorio oggi. Aiutare in tutti i modi quelli che io definisco un po' gli angeli del villaggio Leoma, con il nostro impegno, con il nostro sostegno economico, con tutti i mezzi che come amministratori abbiamo.